Stamattina all'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Palermo, seminario di formazione Trinity College London, un incontro dedicato ai docenti per approfondire la nuova app di Trinity College rivolta agli studenti dai 5 ai 14 anni, uno strumento che consentirà agli studenti di apprendere con più facilità la lingua inglese, presenti alcuni allunni dell'Istituto Comprensivo Monsignor Gagliano di Altavilla Milice. Oggi siamo a Palermo per il nostro Trinity Day, The Skills Revolution, che è un seminario diretto ai docenti di lingua inglese per favorire proprio il miglioramento delle competenze linguistiche ed anche del XXI secolo per tutti gli studenti. Infatti oggi sono presenti con noi quattro studenti dell'Istituto Monsignor Gagliano di Altavilla Milice che proprio potranno sperimentare dal vivo tutte le grandi novità di Trinity College London. E se dovessimo citare qualcuna di queste novità? Direi di partire subito dalla nostra nuova learning app, Skill App, che nasce proprio per aiutare gli studenti a prepararsi i nostri esami, Jesse, che vanno a valutare le competenze audio-orali dal livello pre-A1 al livello B1. E poi questa app è anche propedeutica per il test nazionale in valsi e costituisce una rete importante tra scuola e famiglia, perché è possibile usare l'app sia a scuola che a casa. Secondo me l'app è molto utile magari perché ha difficoltà, vorrebbe imparare l'inglese a casa, anche chi già lo sa vorrebbe migliorare le sue priorità in inglese. È semplice da utilizzare questa app? Sì, è molto facile da utilizzare, è stata fatta apposta appunto perché ha delle difficoltà, appunto è facile da comprendere con giochi, storie, non lo so. C'è un'app che gli studenti usano al di fuori delle lezioni della scuola e che gli permette di avere una padronanza migliore della lingua inglese imparando vocaboli nuovi attraverso delle storie divertenti che va a mirare la pronuncia che gli studenti hanno. L'app ha un sistema diciamo come semaforo per cui segna le parole di rosso, giallo e verde in base a come sono stati pronunciate. L'allunno poi va a fare della pratica sulle parole dove deve andare a migliorarsi e l'app poi gli dà un punteggio per l'esito finale di quella storia che ha letto. L'app è molto facile da utilizzare, invita gli studenti a fare dieci minuti al giorno di uso autonomo dell'app e loro scelgono una storia e loro possono scegliere di ripetere quella storia fino al perfezionamento della pronuncia oppure sono soddisfatti magari di quel punteggio che hanno avuto e vanno avanti con un'altra storia. Quello che abbiamo riscontrato è che i bambini non usano soltanto dieci minuti al giorno, però sono proprio motivati, coinvolti delle storie e della modalità giocosa dell'app e loro fanno anche 20-30 minuti al giorno.